Si lavora la prossima stagione invernale sul Gran Sasso con incognite speranze. C'è un pacchetto intanto di linee guida proposto dalle associazioni che a livello nazionale lavorano sulla neve e che è sottoposto al Comitato Tecnico Scientifico che prevede Green Pass per arrivare sulle seggiovie al 100% e nelle cabine chiuse all'80% sperando di poter fare una buona stagione invernale. Speriamo bene, dopo due anni speriamo che si riparta, come abbiamo saputo in campo nazionale le nostre categorie hanno presentato delle linee guida che prevedono il Green Pass per aumentare la portata degli impianti. L'auspicio è che vediamo anche dalla linea pandemica che tutto vada per il verso giusto sempre con lo dovuto, attenzioni perché ricaderci insomma sarebbe veramente mortale questa volta. L'altro ieri intanto sono scaduti termini per la gestione delle strutture, o stello, rifugio, hotel, cristallo e ci sarebbero delle offerte. Il problema del Gran Sasso, rileva Luigi Faccia, sono le strutture a servizio del turista ricettive di viabilità e inoltre insiste serve il piano d'area. Il Gran Sasso sta lì, se non ci si mettono le mani diventa sempre più vecchio, sempre più cadente, c'è ancora qualcuno che vuole rimanere su però purtroppo non va, le strutture senza strutture non si va da nessuna parte. Poi questa guerra assurda contro gli impianti, ormai si è capito, l'impianto fune è diventata una viabilità alternativa, il campo impiantatore è ora che si vada solo con gli impianti e per andare solo con gli impianti bisogna fare il piano d'area. Speriamo che il sindaco capisca queste cose, almeno dopo cinque anni, e spero che ci metta almeno un dito sul Gran Sasso. Intanto, a proposito di scuole sci, l'Aggiunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l'erogazione di contributi a favore dei maestri sci e delle scuole colpite dalla crisi da Covid-19 per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione 2020-2021. Il bello è che l'anno scorso, che ancora era indecisa se partire o no, noi abbiamo affrontato le spese per adeguarci alle misure anti-Covid, quindi è stato un peso sopra l'altro peso. Fortunatamente i fondi nazionali dei sostegni sono arrivati e la regione, bisogna dire, ha fatto in fretta a fare le linee di guida per la distribuzione proprio dei fondi. Finalmente una boccatina di ossigeno, non è un gran che, però almeno arriva qualcosa.